L'esercizio numero 12 ci propone di completare una tabella. La tabella è costituita dal nome della stella, la magnitudine apparente nel visuale, la parallasse espressa in secondi d'arco, la distanza espressa in parsec, la distanza espressa in anni luce e la magnitudine. Assoluta, cioè la luminosità della stella che avrebbe se fosse posta la distanza di 10 Brasic. E praticamente ci dice il primo oggetto è l'Alfa Centauri. E ci dà questa informazione, la magnitudine apparente di 0,01. Ci dice anche la sua parallasse, dicendo che è 0,747. Questo ci consente subito di calcolare quella che è la distanza impasse, che è l'inverso della parallasse. E quindi è 1 diviso 0,747 uguale 1,33. Mettiamoli fino alla terza cifra decimale approssimata. Per sapere la distanza in anni luce basta moltiplicare per 3,26. 4,36 anni luce. Per conoscere la sua magnitudine assoluta, dobbiamo ricordarci che la magnitudine assoluta è legata alla magnitudine apparente da questa semplice equazione. Questo è il logaritmo in base 10 della distanza D espressa in Parsec. In questo caso, quindi, la distanza D espressa in Parsec è 1,339. Facciamo logaritmo di 1,339 uguale per meno 5 più 5 più cosa la magnitudine visuale apparente, che in questo caso è un meno, quindi. Abbiamo una magnitudine assoluta pari a 4,35, magnitudine nel visuale. L'altro oggetto di cui siamo interessati ad avere le caratteristiche, diciamo, astrometriche, ecco, è Alpha Canis Majoris. Altro non è noto come Sirio. Qua ci dà meno o meglio, ci dà indicazioni diverse. Ci dice che la sua magnitudine apparente è 1,43. Ci dice che la sua distanza in Parsec è 2,63. E ci chiede di riempire le altre tre caselle. 2,63 ci impieghiamo poco a ottenere subito il nostro parallasse, perché se il Parsec è l'inverso della parallasse, la parallasse sarà l'inverso del Parsec. Quindi è 1, scusate, diviso, 2,63, e otteniamo la nostra parallasse, che è di solo 0,38 secondi. La distanza in anni luce è facile da ottenere, perché basta fare 2,63 per 3,26. 8,57, 38. Tenete conto di una faccenda. Date sempre uno sguardo alla vostra tabella, perché lì vedete dei coefficienti di correlazione, nel senso di conversione di queste cose. E lì certamente ci è riportato che è appunto un Parsec che pare 3,26 anni luce. Non dovete mettervi a fare tutti i calcoli. Dopodiché la magnitudine assoluta. Stessa procedura del caso precedente. Praticamente noi abbiamo la distanza in Parsec, che se ne facciamo logaritmo, logaritmo di 2,63 per cosa? Meno 5 più 5 più la magnitudine assoluta, che è di nuovo negativa. Meno 1,43. E mi dice che la sua magnitudine assoluta è 1,47. altra stella, altra riga. Parliamo di 61 cigni. Cigni A evidentemente è una doppia. 61 cigni è stata la prima stella di cui è stata misurata la parallasse. E qua ci dice che la magnitudine apparente è di 5,21 e la sua distanza in anni luce è 11,4. E ci chiede di riempire le altre tre caselline nella nostra tabella. da questa distanza qua, espressa in anni luce, ci impieghiamo poco a ricavarci i Parsec, perché sappiamo che 11,4 diviso 3,26 ci dà la sua distanza in Parsec. Quindi 11,4 diviso 3,26 uguale a 3,49. Poi sappiamo, mettiamogli ancora una cifra significativa, sappiamo che poi questa, l'inverso di questo valore dei parallassi, del Parsec ci darà il parallasse della stella espresso in secondi. Quindi 1 diviso 3,497 uguale. la parallasse è di soli 0,28,6 secondi. Sappiamo la distanza espressa in Parsec, sappiamo la sua magnitudine apparente, sarà facile trovarci la sua magnitudine assoluta. Cancelliamo tutto e facciamo il logaritmo della distanza espressa in Parsec. 3,497 Lo moltiplichiamo per meno 5, per meno 5. Gli sommiamo più 5 e poi gli andiamo a sommare quella che è la sua magnitudine apparente. e otteniamo quindi una magnitudine assoluta pari a 7,49. È una stella molto più debole del nostro Sole, che ha una magnitudine assoluta di 4 e qualcosa. È semplicemente abbastanza brillante per essere vista a occhio nudo per il fatto che è molto prossima alla Terra. Ultima, andiamo a calcolarci dei dati relativa ad Alfa Aquile, nota anche come Altaire, e qua non abbiamo la magnitudine apparente, ma ci viene fornita il suo parallasse, 0,194. E ci dà, ovviamente, la magnitudine assoluta. In questa maniera qua potremo calcolarci la magnitudine apparente. Iniziamo a calcolarci la distanza in Parsec. La distanza in Parsec è l'inverso del parallasse. 1 diviso punto 19,4 distanza in Parsec è di 5,155 approssimato alla terza cifra decimale. I Parsec moltiplicati per 3,26 ci daranno gli anni luce. Si trova a circa 17 anni luce. Dopodiché basta riuscire a isolare la nostra magnitudine apparente e facciamo un po' di passaggi, ma nulla di complicato. La magnitudine apparente sarà uguale alla magnitudine assoluta meno 5 più 5 volte il logaritmo della distanza. Concordate, spero. A tal punto ci calcoliamo il logaritmo della distanza espresso in Parsec logaritmo di 5,155 per 5 meno 5 più la sua magnitudine assoluta più 2,21 ottenendo quindi una magnitudine visuale a 0,077 e infatti è una stella di prima grandezza. Dì, che che Grazie.